Eccoci tornati, sperando di non avere problemi di audio stavolta. Oh, che palle. Vieni, vieni. Siamo partiti un po' così, eh? Guanti del manichino. Eccoli qua. Uh, sono meglio. Buttiamo quelli nella lava. Ah, è vero. No, torna su tu. Torna su, torna su tu. Via. No, fermo lì. Fammi prendere... Ah, aiuto, animadina Dalia. Facciamo le cose un po' per volta. Allora. Ma no, che cerco di cambiare le armi come su Elden Ring. Di mettere l'arma a due mani. Ok, uno andato. Uh, medaglione solare. Ok, un altro. Vediamo un po'. Uh, là c'è un altro oggetto in teoria. Ok. Ah no, è la lucertola morta. Con la lava è morta. Uh, aspetta. Spadone e armatura. Ai, arca miseria. A te, guarda. Mi sono fatto la doccia di lava. Aiuto. Posso usarla a due mani? Sì. Proviamo. Non c'era un Mimic qui? O era Dark Souls 2 originale? Oh, salve. Guanti di maglia di Creighton. Un secondino. Signor Oliver, buongiorno. Oliver Twist. No. Mannaggia a te, guarda. Uh, salve. Beh, ma se ogni volta caschi per terra, abbi pazienza. Preso. Ok. Con molta calma si fa. Ma dai, ma è bravissimo. Ok, dai, ti prego. Pensavo morisse. Ale. Ok. Non è andata male. Non è andata male. Guanti di maglia di Creighton. Eccoli qua. Mamma mia il peso. Siamo 83. No. No, dai. No, dai. Ti prego. Ok. Quanto vi faccio? Ah, beh. Allora. Allora, aspetta. Ma allora. Guarda. Sirete dei barbagianni. Sì, però. O entra o non entra. Non è che... Siamo a farle via di mezzo. Ok. Caduto. Hanno i due. Ah, arca miseria. Guarda, anche tu. Sì, però, il backstab. Ok. Allora. Aumenta l'attacco quando i pivi scarseggiano. Bene. Buono. Non abbiamo più l'anello quello che ci aumenta il peso trasportabile. Siamo molto vicino ai 100. Troppo vicino ai 100. Pietra magica. Ok. Come mi sono sentito? Cadevuto. Scudo piccolo. Oh, bene. Bene, 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 bene. Scudo piccolo. Dov'è? Cadi giusto. Ti prego, eh. Cadi giusto. Ok. Oh, bene. Tiè. Non cadere, mannaggia te. Piano, voglio raggiungere l'altro falò, se possibile. Mentre qui, se non sbaglio, più o meno ci siamo. Nel senso che c'è lui, però bene o male non manca molto al falò prima del boss. No. Cosa vai in avanti così? Stai fermo. Ok. Allora. Abbiamo. Uh. Benedizione divina. Via. Ah. Funzionato. Via. Via, via, via. Immediatamente. Immediatamente. Non voglio rischiare nulla. Non voglio rischiare assolutamente nulla. Via. Perfetto. E ormai ci siamo, ci siamo. Eccoci. Mamma mia. Tiriamo la leva così spegniamo tutte le fiamme. Perfetto. Falò, ti prego. Oh, sì. Usiamo l'anima del cavaliere dello specchio. Torniamo a Magiula e ci compriamo gemme, perché l'abbiamo finita di nuovo. Ne compriamo una cinquantina, direi. E perché no? Anche le figi. Dai. Torniamo al Forte Ferreo. Ora, l'invasore qua è in New Game Plus, vero? Guarda che bello. Una giostra. L'ultimo nemico prima del boss. Ale. Oh, io sono in Fettrol, però... Dai. Dai che ce la si fa. Eccolo. Il secondo dei quattro. La lava è la cosa più finta del mondo. Salve. Aia mi ha preso. Di sbieco. Eh, no. Aiuto. Mi sono avvicinato pericolosamente alla lava. Mamma mia, la telecamera è terribile contro di lui. Qui ho sempre paura di cadere nel buco. Qui via. Via, 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 via. Ci rifugiamo qui. Posso andare? Grazie. No, ecco. Ecco quello di cui ho paura. Esteticamente è molto bello, eh. Molto banale, però molto bello. Molto banale, nel senso che si è visto ovunque sto design, praticamente. Ok. Dio santo. Dio santo, troppo vicino la lava. Ok. Ok. E Ale. Beh, dai. Non è veramente niente di che, eh. Uh, ricettacolo. Qui c'era uno scrigno. Vediamo un po'. Bene. Ed eccoci. Eccoci, eccoci. Abbiamo ravvivato un altro falò primordiale. Molto, molto bene. Di qua c'è uno dei DLC. Sì, il problema è che i DLC, con le randomizer, penso siano troppo. Quindi direi di lasciar stare. Tanto il punto della sfida è finire il gioco. Poi ovvio, si può andare nelle zone opzionali e tutto quanto, magari per cercare oggetti, ok? Sperare in una randomizzazione fortunata. Però, di base, la sfida è finisci il gioco trovando la roba che trovi e usandola per forza. Torniamo a Magiula ora, però. Avanziamo di livello. Ne possiamo fare tre. Guarda, facciamo il famoso 12 a fede dell'altra volta e via. Così almeno, se capita per caso, un'arma con cui serve 12, ce l'abbiamo. Con queste anime che ci rimangono, io direi che è il momento di scendere e quindi di comprare tutte le sue scale. Perfetto, allora, è questa? È quella più lunga? No. No, 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 non è questa. Facciamo che la zona dei ratti ce la teniamo come bonus, diciamo, nel caso non riuscissimo a trovare oggetti decenti. Proviamo ad andare lì, come abbiamo fatto l'ultima volta. Mamma mia, è enorme. Uh, ascia bpn dei Ghirm. Attenzione. Guarda qui. Eh, secondo me questa è forte. Aiuto. Mamma mia. Sono morto. Escre me. Uh, grazie. Guarda, guarda. Dark Souls 2. Sei proprio un simpaticone. Eh no, dai. Dai, non è possibile. Non è vero. Non può essere vero. Salto. Uff. Vediamo un po'. Erba crepuscolare. Là come ci si arriva più? Anche lì saltando. Ah no, da sopra, vero? Eh, allora, nulla. Eh, due... No, quelli che esplodono, mannaggia. Qui? Cosa abbiamo? Tra tutti i momenti. in cui poteva arrivare la frusta dentata è arrivata prima dello scolo. Andale, andale. Vieni. Gli la pianto nella schiena. Non gli faccio niente. Non gli faccio niente. Ti prego. Trovami un'arma, un pugnale, una spada, un... Oh! Che culo! Diceva? Diceva? Eh, appunto. Ah, è vero che li è rotta. Aiuto. Cosa fai? Beh, no... Dio, ok. Pensavo di cadere giù. Siete pronti? Siete pronti per la sofferenza? Nonostante in realtà sia un'area che mi piace molto, ma... Via. Eccoci. Dove era l'alfalò? Vediamo di esplorare un minimo questa zona. Prendere il prendibile. Trovare il trovabile. Eccolo l'alfalò. Aspetta. Uh, pensavo di morire. Pensavo di morire. E ora, per l'unica volta, probabilmente, della run, usiamo una torcia. Accendiamo anche le fiaccole, così almeno rimangono accese. Abbiamo un'ora e undici di torcia. Mamma mia. Dio santo, cosa fa? Ma perché gira? Cosa... Cosa... Bah, non... Stavolta, magari, senza cadere come prima, preferisco 100 scoli al forte ferreo. Ah, anche droppato. Va bene. Possiamo fare diversi giri, in realtà, eh. Io direi di semplicemente esplorare come viene, ma al meglio che possiamo. Stivali dei giri... Oh, no. Ti prego. Non me lo dire. Non me lo dire. Quali sono quelli dei giri? Oh, no. Ok, ok. Siamo ancora perfettamente nel peso. Saltiamo. Là. Perfetto. Bababam. Barabam. Non cadere giù. Stivali di Benhart. Spero siano più leggeri. No, sono più pesanti. Oh, il bestione. Vieni, vieni. Mamma mia, lui è uno dei nemici più rotti in due, soprattutto per l'hitbox del gioco. Ti è. È meglio lo spadone, quindi ti prendo da... Più o meno da lontano. Ale. Ha droppato? No, è caduto giù il drop. No, ma come? Mamma mia. Guanti neri. Balestra leggera che mettiamo al posto, purtroppo, dell'arco, però... Erba ambrata. Freccia magica. E un'altra anima di un gigante. Ah, no, sì. Oh, no. Mannaggia. Aspetta, aspetta. Ok. Perfetto. Oh, gambali di Hyde. E... Beccato. Uh, guanti dell'astrologo. Ho acceso la fiaccola? E allora guarda. Ale. Ale. Ilmo da capitano di Alon. Dio santo, no. Ti prego, eh. Oh, abbiamo trovato due pezzi di armatura dello stesso set. Incredibile. Tavoletta dei campioni. Ah, va bene. Va bene. L'anima di Alana e la pietra di far rossa ci vengono bene. Oh. Salve. Non mi ricordavo assolutamente che ci fosse un cavaliere qui. Aspetta. Ilmo di Aurus, però c'è anche il cappuccio. Quindi si mette il secondo. Ok. E il resto va bene. C'è qualcosa di succoso qui. Ma perché io devo parlare? Perché non sto zitto e muto? Eh, lo sapevamo, eh. Lo sapevamo che sarebbe finita la pacchia. Eh, bene. Supereremo anche questo ostacolo. Via. Dove siamo finiti? Di qua dovrebbe essere la strada giusta. Raccolgo il mio coraggio e vado. Ok. Frammento grande. Ilmo di Sian. Aiuto. Vado a saltare. Eh, vabbè. Non importa. Guarda. Via, via, via. Eccolo lì, il falò. Meno male. Oh, bene, 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 bene. Via. Subito. Perfetto. Falda del leone. Ora siamo di nuovo in un mid roll decente. Eh no, velenato però. Ce la faccio saltare là? Sì. Oh, randello da gigante guerriero. Attenzione, attenzione. Speriamo che sia bello. Eccolo qui. Sessanta forza. Manco due mani. No, ti prego. Vediamo un po'. Vento scuro. Oh, una katana. Oh, 28 destrezza. Beh, siamo vicinissimi a 28 però. Abbiamo 26. Uh, l'anima del demone della forgia. Sto bastardo, guarda. Andiamo, andiamo, andiamo. E qui c'è il falò. Oh, bene, 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 bene. Eh, no. Oh, bene. Era semplicemente scendere qui, no? Ok. Anello del vivente. Ah, conferisce forma umana da fantasma. Vabbè, non ci servirà mai. Ed eccoci. Ah, sì. La gola nera. Ma io mi infilo qui. Oh, falò. E qui ormai mi sa che battiamo due lord in un episodio solo. Perché abbiamo battuto il re, il vecchio re. E molto, molto vicino c'è il prossimo. Quindi, mamma mia. Ma prima usiamo queste anime. Usiamo l'anima di Elana e l'anima del demone della forgia. Perché vorrei aumentare la destrezza. Torniamo a Magiula. Lo mettiamo a forza l'altro. Dai. Perfetto. Allora, siamo pronti. Torniamo alla gola nera. Qui bisogna fare molta attenzione. Perché non è facile. Vediamo quanto facciamo. Ehi, salve, grazie. Così, proprio. Senza neanche un secondo. Beh, non male. Mannaggia. Mannaggia. Guarda qui. Guarda che cosa succede qui. Incenso dello scettico. Ah, giusto. Qui usiamo il ramo. Muoio. Sicuro. 100%. Però... Ti muovi? Ad alzarti? Ok. Permesso. Grazie. Eccolo qui. Golli, il bambino dei boschi. Dai, Golli. Io volevo solo il falò. Grazie. Almeno accenderlo. Non dico sedermi, ma... Oh, bene. Eh, no. Eh, va bene. Non importa. Non importa. Tanto abbiamo acceso il falò. Quindi... Cosa abbiamo qui? Ah, io ho potenziato restrezza, ma guarda, guarda, lo accetto molto molto volentieri. Andiamo dal boss? Dai, concludiamo. Due boss del... Due cosi, lì, due lord, quello che sono, in una volta sola. No, 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 Golli. Te lo scordi proprio, guarda. Salve. Oh, lui è veramente bello. Poi il boss è scemo e fa abbastanza schifo, però lui in sé è interessante. Guarda, tutto coi corpi. Vediamo un po'. Aia. Gli si può anche tagliare il braccio, però... Un po' complicata la faccenda. No, che schifo. No, mi ha preso. Mannaggia. Aia, mi stritola. Maledetto putrido. Mamma mia, la stamina che non esiste. Dai, perché attacchi quando attacco io? Stai lì tre ore e quindi giustamente... Mi costringi ad attaccarti, poi mi attacchi tu. Molto bella la musica, eh. Interessante, particolare. Oh, ecco, invece sì. No, non mi far andare nella lava, guarda. La lava, vabbè, quello che è. Nelle run normali entri e muore, praticamente. Dai che due lordi in una volta sola. E arrivederci. Mamma mia. Ce l'abbiamo fatta. Due in una volta. Anello della resistenza. Aiuto, non mi ricordo come si va davanti. Eccolo lì. Vediamo un po'. Uh, di nuovo la lama doppia. Per la terza volta, tra l'altro, se non mi sbaglio. Qui c'è l'altro DLC. Un altro falò primordiale è stato ravvivato. E ne resta solo uno. Non mi ricordo come si va davanti. Per la terza volta. Grazie.